Con Federica Mazza ad analizzare una stagione, quella che la Dino Woman sta compiendo sul parquet che davvero dà grandi speranze per il futuro. Grande squadra, grande simbiosi con tutte le componenti e tu sei una di quelle. Sì, quest'anno mi ritengo davvero fortunato di aver trovato delle compagnie di squadra direi perfette lo staff che ci aiuta molto nei momenti difficili ma ci sono anche tanti momenti divertenti che condividiamo tutti i giorni in palestra mettendoci comunque sempre tanto impegno, tanta dedizione e tanta voglia. Grandi prestazioni, poi il quarto posto in classifica la dice lunga su quello che è un roster praticamente è quasi totalmente nuovo, è una sinergia che avete trovato in primis come squadra ma squadra davvero coesa perché mi piace sottolineare il fatto che voi avete sempre il sorriso sulle labbra credo che sia un buon punto di partenza. Sì, questo ci dà quella spinta in più per superare magari in campo dei momenti di down e questo gruppo è fortunato ad avere questo staff perché merito loro se noi riusciamo a essere così squadra, così gruppo se riusciamo a sorridere in tutti i momenti della partita quindi grazie anche a loro. Spendiamo anche una parola per il sesto uomo pian pianino dall'inizio della stagione fino ad oggi il palazzetto va riempendosi perché? Perché praticamente è una sorta di ringraziamento per quello che state facendo lo state guadagnando e attenzione. Sì, loro ci danno davvero tanta energia e è anche molto bello sentire i commenti durante le partite perché smorzano un po' la tensione che c'è a volte nelle partite e vogliamo sicuramente avere il palazzetto molto pieno a tutte le partite perché appunto contiamo molto anche sul nostro pubblico. Ultimissima cosa, quanto è facile giocare con De Bicera? Allora, facile? Facile no, perché è una che pretende tanto lei lavora duro io ogni giorno cerco di imparare qualcosa e diciamo la cosa che vorrei prendere maggiormente da lei è la sua energia perché davvero è una cosa che le invido davvero tanto e cerco nel mio piccolo di fare il meglio. Bocca al lupo, Fede. Grazie, ciao.